A Latina ancora false richieste di indennità per esposizione all'amianto, un'operazione che parte da Bolzano e arriva a Latina, dove finiscono a processo in sette tra avvocati e sindacalisti. Richieste di risarcimento con documentazione falsa per attestare danni da esposizione all'amianto finiscono a processo in sette. La città di Latina viene colpita in pieno dall'indagine partita da Bolzano, dove sono state riscontrate delle anomalie nelle istanze presentate dai lavoratori per mezzo di avvocati e sindacalisti. E buona parte delle pratiche sono state curate proprio negli studi legali di Latina. Sono queste due categorie, avvocati e sindacalisti, ad essere state rinviate a giudizio il prossimo 12 febbraio, data di inizio del processo presso il Tribunale di Latina. Alla sbarra gli avvocati di Annalisa Pisacane, Armando Avella, Antonella Rossi, Enzo Tosti, Vincenzo Schettino, i sindacalisti Emilio Danieli e Paolo Sandi. L'accusa nei loro confronti è quella di associazione a delinquere finalizzata a ottenere erogazioni pubbliche conseguenti all'esposizione all'amianto ai danni dell'Inps. Anomalie segnalate dal direttore dell'Inps di Bolzano, da qui l'inchiesta avviata dalla locale procura e poi trasferita per competenza a quella di Latina. A conclusione dell'udienza preliminare, il giudice Giorgia Castriota ha accolto la richiesta del PM disponendo il rinvio a giudizio. Nell'accusa si parla di istanze dell'Inail falsificate in diverse province italiane, tra cui, oltre a Bolzano e Latina, Frosinone, Salerno, Reggio Emilia e Belluno. Istanze in realtà mai presentate dall'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, oppure presentate in date diverse o sedi diverse rispetto ai timbri di ricezione delle domande. Così come spesso i modelli di presentazione delle domande non corrispondevano a quelli rilasciati ufficialmente dagli istituti in questione.